Con i contagi in aumento, l'avvicinarsi delle stagioni fredde e la variante Eris preponderante in Italia in aumento in tutta Europa, le vaccinazioni anti-influenzale e anti-covid sono un tema di grande attualità. In Abruzzo da oggi 10 ottobre parte ufficialmente la campagna vaccinale ed è possibile l'inoculazione concomitante negli ambulatori, del servizio igiene e sanità pubblica, in quelli dei medici, di famiglia e dei pediatri e nelle farmacie. Il segretario regionale della Federazione dei medici di medicina generale Mauro Petrucci spiega che è possibile somministrare anche vaccini anti-pneumococco ed herpes zoster e che la doppia somministrazione di vaccino anti-influenzale e anti-covid è sicura ed è importante proteggersi dall'attacco di questi virus la cui pericolosità è nota specialmente a danno delle persone fragili. Con il covid che ci ha preso all'improvviso, che ci ha all'inizio spiazziati e disorientati, però grazie alla concentrazione a livello mondiale che abbiamo avuto nel produrre nel più breve tempo possibile i vaccini, sono quelli che ci hanno permesso di arginare e di controllare quella che poteva diventare una vera catastrofe. La coorte di persone alle quali è rivolta la vaccinazione principalmente gli over 65, le persone anziane che hanno più di 65 anni e tutti i portatori di patologie croniche importanti tipo diabete, malattie respiratorie, malattie cardiache, malattie ematologiche, neoplasie che possono avere un documento da una sovrimpezione di tipo influenzale determinando un aggravamento delle condizioni preesistenti che possono determinare uno scompenso che a volte può essere anche fatale. I medici di medicina generale però sono in campo e in prima linea anche su altri fronti? Sulle vaccinazioni antipolenziali siamo stati sempre presenti in prima linea. Quest'anno più che mai perché nell'ambito del rinuovo del nostro accordo integrativo regionale siamo riusciti ed è stata approvata ieri la delibera a fare un accordo stralcio dell'accordo che prevede la nostra partecipazione alle vaccinazioni antinfluenziali, anti-covid con la destagionalizzazione di quella antipneumococcica e che vedrà tutte e quattro le ALS avere un comportamento comune, omogeneo su tutto il territorio regionale. Abbiamo appunto l'antipneumococcica che è anch'essa importante per i malati cronici, per i malati di problematiche respiratorie che anziché come gli altri anni farla nel periodo invernale, la potremo fare tutto l'anno. Quindi questo ci consenterà di intercettare tranquillamente tutti i nostri pazienti al rischio e poterli vaccinare.